Apparentemente una scena edificante di propaganda socialista con un operaio ligio alla rimattolenatura delle strade. Anzi, è l'artista Sandor Pinzeli, parassita come tutti gli artisti, ma in veste di operaio per il bene comune. Apparentemente, perché in realtà questa potrebbe essere la rappresentazione di un sovversivo che sta facendo incetta di sanpietrini e di ciotoli per barricate, guerriglie, non accettazione dell'addomesticamento e dell'acquiescenza. E i sistemi di potere, spacciandosi per pacifisti, neutralizzano la rivolta e qualsiasi forma di protesta. Una manifestazione in cui non sono accaduti incidenti è perfettamente riuscita per il potere. Presto sarà vietatissimo in ogni manifestazione artistica, mostrare e utilizzare San Pietrini. Una sola pietra è già segno di invito alla guerriglia.